Oggi abbiamo ottenuto il primo seminario a riguardo di Open Innovation, percorsi di innovazione collaborativa. Abbiamo avuto la testimonianza del Politecnico di Milano, del Broker Nine Sigma e di tre imprese che hanno già sperimentato i percorsi di Open Innovation. Vi è stata un'adesione entusiastica delle imprese e l'attenzione soprattutto al cambiamento culturale che è necessario per migliorare la competitività delle imprese, non solo per linee interne ma anche per linee esterne, collaborando con centri di ricerca e con il grande mondo della conoscenza raggiungibile tramite internet. Per linee SBA è un'azienda che fa Open Innovation già dagli anni 90 e ha come filosofia l'Open Innovation, forse prima ancora di conoscere il concetto stesso di Open Innovation. In questo convegno di Assolombarda abbiamo portato quella che è una nostra esperienza invece per quanto riguarda uno sviluppo talmente innovativo da aver bisogno di una filiera completamente nuova e quindi lo sviluppo di nuovi rapporti con nuovi attori, le problematiche per quanto riguarda la proprietà intellettuale ma soprattutto un progetto che è lungo e faticoso soprattutto per una PMI che poi ha avuto un ottimo successo nel mercato.